Eccoci ragazzi con il nuovo Nokia Lumia 720, siamo nello stand di Nokia ovviamente, dispositivo nuovo praticamente solo nell'hardware perché il software è bloccato tra l'altro, il software praticamente è rimasto lo stesso. Nell'hardware appunto abbiamo intanto un dispositivo che è stato completamente rivisto per quanto riguarda la costruzione dato che adesso utilizza un design unibody, quindi costruito esattamente come accade con i telefoni di Apple per intenderci. Gorilla Glass, quindi schermo antimpronta, schermo che non si graffi eccetera eccetera, NFC, la tecnologia che insomma tantissimi smartphone stanno montando in questo momento, fotocamera anteriore da quasi 2 megapixel, fotocamera posteriore da 6 megapixel e un prezzo di lancio che dovrebbe avvicinarsi a 500 euro, un dispositivo non ancora di fascia altissima però già di fascia più alta rispetto all'altro dispositivo che ha annunciato Nokia e che vedremo nel prossimo video.